Si dice stop agli ospedali unici. Con queste parole Francesco Baldelli, assessore regionale alle infrastrutture, ha aperto la conferenza indetta oggi a Palazzo Raffaello, a cui erano presenti anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il vicepresidente Mirco Carloni e gli assessori alla sanità Filippo Saltamartini e all'edilizia pubblica Stefano Aguzzi. La Giunta regionale ha revocato la finanza di progetto con la quale si sarebbe dovuto realizzare il nuovo ospedale unico di Pesaro e Fano. A dover presentare entro 13 giorni una proposta in merito alla realizzazione di un nuovo ospedale a Pesaro, sarà un comitato tecnico composto da dirigenti e tecnici sia della Regione Marche che del Comune di Pesaro. Tra le decisioni affidate al comitato c'è la scelta della localizzazione che dovrà soddisfare l'interesse pubblico. A seguito dell'esperienza della pandemia, ha spiegato Baldelli, per ragioni organizzative ed economiche si darà avvio alla costruzione di un nuovo ospedale a Pesaro, che sarà in rete ed in un sistema policentrico, che riguarderà tutta la provincia, con risorse della Regione e intercettando anche quelle statali, senza bisogno del project financing. Quindi abbandoniamo la logica dell'accentramento dei servizi sanitari ospedalieri in uniche strutture e cerchiamo di costruire una rete policentrica sul territorio. Questo però significa anche laddove è necessario costruire nuove strutture ospedaliere e rafforzare quelle che già operano sul territorio, con una serie di investimenti che porteranno all'adeguamento delle strutture ospedaliere in ogni provincia marchigiana. Oggi parliamo di Pesaro, quindi il rafforzamento e l'adeguamento della struttura ospedaliera di Fano, ma anche di quella di Urbino e di Pergola, non dimenticando che in quella provincia, così come è capitato in altre parti del territorio, sono già stati riconvertiti alcuni ospedali. Da qui parte la riorganizzazione della rete ospedaliera marchigiana. La mattina con una comunicazione alla giunta regionale abbiamo incaricato il dottor Becchetti, segretario generale della regione, di nominare un comitato tecnico costituito da appartenenti al comune di Pesaro e alla regione Marche per l'individuazione di tutte le modalità operative di realizzazione del nuovo ospedale. Quindi tra 13 giorni sapremo nel dettaglio quali saranno le valutazioni. Evidentemente sono valutazioni tecniche che devono essere raccordate nel principio di reale cooperazione tra enti e nel soddisfacimento del migliore interesse pubblico. Qui non c'è una discrezionalità politica, c'è una discrezionalità tecnica e naturalmente deve soddisfare il canone dell'economicità, ragionevolezza, efficienza dell'azione amministrativa.